La squadra dell'allenatore Pasquale Chieco, candidato sindaco per il centro-sinistra alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, è composta da giocatori che non accettano il disfattismo e la rassegnazione di chi vede una ruvo di Puglia destinata a essere ripiegata sempre su se stessa. Questi giocatori vogliono vincere una sfida, rendere la città del Talo su un florido centro economico e culturale che faccia sistema, che faccia rete anche a livello internazionale. E' questo il senso delle dichiarazioni di alcuni candidati di lista della coalizione che supporta Chieco nella mite serata del 10 maggio 2016 in piazza Matteotti. Ruvo Futura, Sinistra Ruvese, Movimento Schittulli, Partito Democratico, per ogni lista hanno parlato diversi candidati. A prescindere dai colori ideologici, d'altronde si è parlato di rete, di sistema e si è fatto riferimento anche ad alleanze politiche. Prossimo appuntamento è per sabato 14 maggio 2016 in piazza Dante, quando Pasquale Chieco presenzierà alla presentazione del libro di Guglielmo Minervini di politica generativa di sistema e di rete.